A Roma ieri erano i migliaia che hanno sfilato per il Pride 2023. 35 carri sono partiti da Piazza della Repubblica e hanno raggiunto i fori imperiali. Il popolo dell'arcobaleno da tutta Italia ha raggiunto la capitale per un appuntamento preceduto da violenti polemiche per il sostegno all'iniziativa prima concesso poi ritirato da parte della Regione Lazio e anche per le trascrizioni di bimbi nati all'estero da due coppie di mamme da parte del sindaco Roberto Gualtieri. Siamo un milione ma in vista tanta gente hanno scantito gli organizzatori del carro che ha aperto un corteo sulle notte di festival di Viva l'Amor con le madrine di questa edizione Aula e Chiara. Da oggi parte la resistenza della nostra comunità a questa destra, a questo governo e a Miloni afferma Mario Polmarino, portavoce della manifestazione e presidente del circolo Mario Mieli. Quello che è successo con il patrocino della Regione Lazio è l'ennesima prova di quanto questa destra sia omofoba e cialtrona. È una vergogna.